Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video andremo a vedere come evitare che la lama della motosega rimanga schiacciata all'interno del tronco durante un'operazione di taglio. Prima di tutto cerchiamo di capire questo problema, in quali occasioni può presentarsi? Quando una pianta è già caduta, perché è caduta lei o perché l'abbiamo abbattuta noi, ma presenta delle zone che sono distanti da terra. Questo cosa comporta? Comporta che la pianta appoggia solo in alcuni punti e nei tratti dove vola funge da una vera e propria mensola. Ma cosa si intende per mensola? Guardiamo questo caso, un piccolo legno appoggiato tra un tronco e un sasso. Il tratto centrale, che anche lui è sospeso nel vuoto come il tronco grosso che abbiamo visto prima, è soggetto al carico del suo peso a sbalzo in tutto questo tratto. Questo cosa comporta? Vi faccio vedere aumentando un po' il suo peso con la forza della mia mano. Si flette verso il basso. Ma quando si flette, cosa sta succedendo? Le fibre del legno che si trovano nella parte dorsale, nella parte sopra, quando faccio così, si stanno accorciando. Cosa vuol dire? Che la parte sopra si sta comprimendo. Vuol dire che se io faccio un taglio qui piccolino, questo tenderà a chiudersi. Invece nella parte sotto cosa succede? Guardate, se io spingo, si allunga il legno. Se si allunga, cosa vuol dire? Che se immagino di fare un taglietto, questo tenderà ad aprirsi. Ma allora l'avete già capito anche voi. Da che lato devo fare il taglio con la motosega affinché non si blocchi? Esatto, la motosega deve entrare dal lato delle fibre tese, in modo che man mano che la lama penetra all'interno del legno, le fibre si distaccano, il legno si distende e ci apre sempre di più il taglio. Se invece lo mettiamo dalle fibre compresse, partiamo col taglio che fa la motosega, questo tende a chiudersi e ci blocca la barra in mezzo al legno. Adesso vediamo anche qualche altro accorgimento per fare il lavoro con i fiocchi. Siamo di nuovo sulla pianta che avevamo visto all'inizio. Questa pianta è caduta, là vedete il ceppo rovesciato, appoggia a terra fino a qui. Dopodiché non tocca più terra, ma non lo tocca più. Non è come l'esempio che vi ho fatto col bacchettino che appoggiava da due parti. Quindi state attenti, cosa ho detto? Bisogna tagliare dal lato delle fibre tese, non bisogna tagliare sempre da sotto. In questo caso le fibre tese dove sono? La pianta è caduta di là e fino a qui è appoggiata a terra. Quindi tutto il peso della pianta è a sbalzo, vuol dire che la parte sopra delle fibre sono tese, perché lei tende a flettere verso il basso. Se qui sono tese, qui sono compresse, mi si bloccherà la motosega se entro da sotto. Quindi cos'è la strategia? Di base è entrare da sopra. Ma come vi avevo promesso, vi do una chicca in più. Tutte le volte che tagliamo una pianta che è un po' sotto tensione, ma non sto parlando di un ramo flesso, sto parlando di una pianta che presenta fibre tese e compresse, il trucco migliore è entrare dal lato delle fibre compresse prima per una o due dita ci consente che quando andiamo poi a fare il taglio dal lato delle fibre tese, all'ultimo la pianta si spacca di colpo, quindi liberandoci la motosega. Altrimenti avremmo un anello cruciale che è il tratto dove la motosega deve uscire dal legno e i legni devono dividersi, che rischiamo di essere schiacciati anche se eravamo dalla parte delle fibre tese. Ma adesso vediamolo in pratica che è meglio. Fibre tese sopra, fibre compresse sotto. Piccolo tagliettino. Usciamo senza che la pianta sia ancora compresso. Sulla stessa linea entriamo da sopra. Vedete che il taglio si sta aprendo? Guardate come si muove la motosega. A agio, si vede proprio che si è aperto a forma di cono. Adesso più andrò avanti, più questa cosa aumenta. Come vi avevo detto prima, il taglietto di fondo, vedete, fra un po' qui andranno in appoggio i due legni. E cosa succede? Che quando la motosega arriva alla fine del taglio che ho fatto prima, di colpo, pam, si trova libera dal legno. Perfetto! In caso hai dei dubbi sul fatto che si incastrasse la motosega se fosse entrato dal lato delle fibre compresse? Vediamolo! Qui abbiamo ancora la stessa situazione di prima, perché il tratto che abbiamo lasciato a sbalzo presenta ancora fibre compresse sotto e fibre tese sopra. Ora entrerò da sotto. Vedrete che la motosega rimarrà letteralmente schiacciata nel tronco e dovremo liberarlo noi. Quando la motosega rimane incastrata abbiamo solo una soluzione. Dobbiamo rimuovere la compressione dove è rimasta bloccata la barra. Se il legno è molto piccolo è facile, possiamo aiutarci con le mani, da soli o con l'aiuto di un altro. Il problema è quando un legno è grosso. In quel caso dobbiamo utilizzare dei cunei o, con l'ausilio di un'altra motosega, dobbiamo scaricare la tensione che sta comprimendo la barra della motosega bloccata. Adesso che l'abbiamo liberata, finiamo il taglio da sopra e risolviamo il problema. Spero che il video ti sia piaciuto e soprattutto che ti abbia dato un metodo per capire come affrontare i tagli quando il legno è sotto tensione. Detto questo, se il video ti è piaciuto, lascia un like che a noi serve e a te non costa nulla e condividi il video con tutte le persone a cui pensi che questo argomento possa interessare o possa risolvere un problema anche a loro. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Commenta se hai suggerimenti diversi, esperienze diverse o se hai qualcosa da dire. Ciao e ci vediamo al prossimo video.